Presentiamo insieme con il Comune di Corinando questa mattina il concurso storico su Carafuoli che è fotografo della nostra area di riferimento e il museo chiaramente coinvolto in questo sia da un punto di vista di cura dello stesso fotografo, ricordo che noi abbiamo il fondo qui al museo di Senigallia del fotografo e anche perché questo concorso ci vede partecipi tutti come area territoriale, diciamo, Renato Senigallia nella manifestazione e anche in momenti espositivi successivi che potremo insieme organizzare.